Una nuova avventura, una nuova esperienza per il mister Giuliano Fondanti, sempre nel campionato di promozione Girone B, questa volta alla guida del Montefano, quali obiettivi, quali programmi mister? Sì, c'è stata questa chiamata del Montefano che chiaramente mi ha trovato subito felice e entusiasta, sia per il campionato di promozione Girone B, secondo perché comunque sia vengono da un ottimo campionato e la loro intenzione è quella di riconfermare la maggior parte del gruppo di questa stagione che molto bene ha fatto. L'obiettivo della società è questa è una società con i piedi ben piantati a terra e loro vogliono mantenere la categoria, poi chiaramente speriamo che nonostante l'ottimo risultato dell'anno scorso questo gruppo abbia ancora fame e voglia di tentare di migliorare ancora. Lei arriva con entusiasmo, in un girone tradizionalmente difficile, oramai si è già delineato, come se lo aspetta? Sì, ritengo che questo girone, forse questa storia sarà ancora più complicato come l'ho stato anche l'anno scorso, nel senso che tutte le squadre ormai sono attrezzate e non so se quest'anno è escluso quello che dai primi movimenti sembra essere il Troika, la squadra che dovrebbe puntare decisamente alla vittoria del campionato. Ritengo anche che le squadre provenienti dalla zona di Ascoli siano molto ben attrezzate e tanto lo sono anche queste del maceratese. Vedo degli ottimi derbi in arrivo.